Una debole ma incoraggiante ripresa, questo è il dato positivo che emerge dal 23esimo rapporto Crenos sullo stato di salute dell'economia sarda presentato all'Università di Cagliari. Secondo i dati che si riferiscono al 2015 il tasso di disoccupazione diminuisce, attestandosi a poco più del 17% dopo 7 anni di crescita ininterrotta fino a sfiorare il 19% nel 2014. I segnali sono quelli dell'uscita dalla crisi, finalmente si procede molto lentamente, però soprattutto il mercato del lavoro ci dà segnali veramente incoraggianti, il tasso di disoccupazione si riduce, aumentano gli occupati, aumentano le forze lavoro e quindi in questo senso sembra che le cose vadano meglio. Un lieve miglioramento dovuto anche alle ricadute del Jobs Act, trainante anche il turismo con una domanda in crescita per il terzo anno consecutivo, ma la Sardegna resta ancora molto indietro rispetto al resto d'Italia per quanto riguarda i fattori di crescita. Guardiamo gli indicatori monitorati dall'Unione Europea, quello che vediamo è che la quota di laureati in Sardegna è ancora terribilmente bassa, gli abbandoni scolastici sono un problema e il numero di giovani scoraggiati, quindi che non sono impegnati in attività di formazione o di ricerca di un posto di lavoro è veramente molto alto rispetto all'Italia e all'Europa, quindi c'è ancora tanto da fare.